E' stato un flop in termini organizzativi, un mezzo disastro sotto l'aspetto politico. Il capodanno Terramano ha messo a nudo tutte le difficoltà che l'amministrazione Brucchi sta attraversando. In altri tempi sarebbe stata una polemica di poco conto, la neve, il ghiaccio, il freddo e la gente che è rimasta a casa. Oggi non è così. Colpa anche della stessa giunta Brucchi che ha voluto dare all'evento un'importanza che alla fine non aveva. Bisognava tappare le falle degli insuccessi di Sportissimamente, delle manifestazioni che in questi ultimi mesi hanno lasciato interdetti terramani, delle polemiche sulle spese, sui costi mai chiariti di questo capodanno terramano e poi sulla scelta dell'artista apparsa sin da subito sbagliata. Marina Rey era stata a Teramo solo sei mesi fa, chiamata ad esibirsi come contorno e non come artista di punta. Ed ora che si fa, la si sceglie per quello che è l'evento più importante dell'anno. Ecco il primo errore, la marre di tutti gli altri. D'altra parte lo ha detto la stessa assessore, altri artisti costavano troppo. E allora perché farlo questo capodanno? Perché le altre volte lo aveva organizzato l'assessore Guido Campana, oggi solo consigliere di maggioranza, la cui esclusione dalla giunta per motivi di equilibri elettorali e apparentamenti, aveva creato e crea tuttora molte, troppe polemiche. Maurizio Brucchi voleva dimostrare che tutto può andare avanti anche con altre persone. Ha avuto torto, ma non perché Campana fosse insostituibile, sia ben chiaro, ma perché le persone vanno scelte e messi al posto giusto. Quando si deve sottostare ad alleati che ti abbracciano mortalmente, imponendoti scelte pericolose, il rischio della figuraccia e della crisi è dietro l'angolo. Il flop è figlio di tutta questa serie di circostanze e anche di altro. Questa è l'occasione giusta per fermarsi e riflettere, prendere delle decisioni e accelerare magari quella verifica di giunta annunciata per giugno. Alla fine la colpa se la prenderanno la neve e il ghiaccio, ma fate bene attenzione, i terramani sanno che così non è.